Siamo qui nella sala Bernini dell'Hotel Tiziano di Lecce, siamo lieti di presentare la Biennale d'Arte Il Rinascimento, dal Salento al più ampio contesto europeo tra arte, filosofia e letteratura. Sarà presentato il Davide di Michelangelo, un premio artistico nel 520esimo anniversario della realizzazione del capolavoro della scultura mondiale. Non solo, presenteremo anche l'alto riconoscimento per la letteratura e l'impegno sociale, omaggio a Dante Alighieri, in occasione del settecentesimo anniversario delle celebrazioni che si svolgono in tutto il mondo del sommo maestro fiorentino. Il programma è completato anche dall'inaugurazione della mostra collettiva internazionale dal titolo Arte del Levante 2021, che si terrà giovedì 1 luglio 2021 alle ore 19 presso la sala Maccagnani, società operaia di mutuo soccorso in Lecce, dove saranno esposte le opere degli artisti premiati. La mostra resterà aperta dall'1 al 10 luglio 2021.